Rieccoci tantissimo davvero materiale da raccontarvi oggi in tema sportivo ma non solo, anche fatti di Kronach che poi vanno a legarsi con il calcio, con i nuovi sviluppi sull'inchiesta Dirti Soccer. C'è un'altra partita, almeno stando agli investigatori, legata alla Vigor Lamezia finita sotto la lente di ingrandimento e Vigor Lamezia casertana finita con la vittoria dei campani per 2-1. Nuovi guai per la Vigor Lamezia, i nuovi sviluppi dell'inchiesta Dirti Soccer inchiodano il club bianco verde, già dentro con tutti e due i piedi nel nuovo scandalo calcio scommesso scoperto dalla procura di Catanzaro. Non solo Vigor Lamezia Paganese del 12 aprile 2015 finita 1-1 e Barletta Vigor giocata una settimana più tardi finita a Teatré nel fascicolo degli investigatori alla voce partite truccate. C'è un altro incontro legato strettamente al club lamettino finito sotto la lente di ingrandimento dei magistrati. Vigor Lamezia casertana dello scorso 25 aprile. Una sfida terminata con la vittoria della formazione campana per 2-1 al novantesimo. Era stato il gol di Marano, a pochi secondi dal gong, a regalare il successo agli ospiti in piena corsa playoff. Partita fino a quel momento in parità dopo le reti di Agodirin nei primi minuti del primo tempo e il momentaneo pari casalingo firmato a Schersella alla mezz'ora del secondo tempo. Per la procura di Catanzaro anche questa sfida sarebbe stata alterata per incassare somme prodotte da diverse scommesse piazzate sulla vittoria della casertana. Risultato di cui si sarebbe fatto garante Felice Bellini, consulente della Vigor all'epoca dei fatti, con la complicità dell'ex presidente biancoverde Claudio Arpaia. Nel frattempo sono stati notificati gli avvisi di conclusione indagine legata al primo finale dell'inchiesta Dirty Soccer. Stiamo parlando ovviamente di giustizia sportiva. Il procuratore federale Palazzi ha contestato la responsabilità diretta ed oggettiva alla stessa Vigor Lamezia, ma anche al Catanzaro. E' proprio negli ultimi minuti è arrivata la nota del Catanzaro attraverso il legale Rondinelli, che ha confermato che la procura ha contestato al Catanzaro la responsabilità non solo oggettiva per i fatti contestati all'ex DS Ortoli, a Domenico Giampà, ma anche quella diretta, spiegando però che è una responsabilità diretta correlata alla violazione dell'omessa denuncia e non responsabilità diretta per il lecito sportivo. La sanzione più grave nelle peggiori delle ipotesi, dice la Rondinelli, è un'ammenda di 30 mila euro e l'inibizione del presidente di legito sportivo. Come sapete invece prevede la discesa in Serie D eventualmente del Catanzaro e anche della Vigor Lamezia. A Reggio Calabria invece si chiude un'era, durata 30 anni, firmata Lillo Foti. Ieri il disimpegno con il quale l'ormai ex presidente Amaranto ha ceduto praticamente gratis le quote societarie alla nuova accordata guidata da Mimo Praticò. Si chiude un'epoca a Reggio Calabria, casa della regina. In Rivo allo Stretto si chiude un'era, durata 30 anni, firmata Lillo Foti. L'ormai ex presidente Amaranto, come promesso, ha ceduto praticamente gratis. Le quote del club firmando il disimpegno da ogni carica. Un documento che sarà valido di fatto da quando la regina verrà iscritta al prossimo torneo di Lega Pro. Iscrizione di cui si è fatta carico la cordata di imprenditori guidata dall'ex numero uno del coni calabrese, Mimo Praticò. Si è concluso quindi nel migliore dei modi l'incontro organizzato dal sindaco regino Giuseppe Falcomatà. Ben 25 gli imprenditori che si sono fatti avanti per salvare, attraverso la costituzione di un'altra società, la regina. Toccherà loro accompagnare il club al fatidico 27 luglio, quando nei saloni della FIGC dovrà essere presentato tutto l'incartamento necessario all'iscrizione in terza serie. Probabili nuovi ingressi di altri imprenditori pronti a colmare la differenza tra quello che già è stato raccolto e quello che manca. Una forbice destinata a diminuire grazie anche all'impegno di semplici tifosi o ex Gloria Amaranto. Tra questi già diversi, da Missiroli ad Emerson, finendo a Possanzini e Savoldi, hanno già dato il loro personale contributo. A Cosenza invece l'ultimo saluto a Gigi Marulla. Ieri i funerali dell'ex bomber Rosso Blu, c'eravamo anche noi. Cosenza si ferma per l'ultimo saluto al mito del calcio calabrese Gigi Marulla. La chiesa della Madonna di Loreto era gremita, non solo tifosi, amici, ex compagni, ma anche tanta gente comune, che riconosce a Marulla di aver reso grande la città e il club Rosso Blu. All'interno a sostenere la famiglia, la dirigenza e i calciatori della squadra del patron Guarasci. Tra i volti storici il portiere Giacomo Zunico, il fantasista Enrico Buonocore, Gigi De Rose, Fabio Di Sole e Luciano De Paola. Fuori gli ultra delle squadre gemellate con il club Silano, ma anche i rappresentanti dei rivali storici Salernitana e Catanzaro. All'uscita dalla chiesa sventolano le bandiere dei club presenti e volano i palloncini con i colori della squadra Abruzzia. Sul sacrato Padre Fedele, che ha rivolto l'ultimo saluto al bomber a nome di tutti gli ultra, a rompere il silenzio, i cori che ricordano il capitano dei luci. E a Vibo Valencia, invece casa della Vibonese, potrebbe essere il giorno di Marco Cuomo. L'ex regista del Melfi atteso in città si punta a chiudere la trattativa in maniera positiva. Nel frattempo il club Rosso Blu ingaggia i giovani, la villa è scapellato. La Vibonese è pronta a decollare nel massimo torneo di lettanti. Categoria strappata con le unghie e con i denti al termine di una lunghissima stagione, conclusa in maniera positiva e play-off promozione. Pochissimi i giorni di vacanza per i dirigenti della società Rosso Blu, pochissimo relax anche per i tanti confermati tra le fila Vibonese. Da Capitan Cosenza al centrocampista Ruscio, dagli attaccanti allegretti Garat ed Adalt, al difensore Bertini. Per il 28 luglio, dato in cui la nuova Vibonese è targata 2015-2016, si radunerà Luigi Razza, Mister Di Maria avrà praticamente a disposizione l'intera rosa. Pochissimi i tasselli da riempire, uno è il regista. In questo ruolo il direttore sportivo battaglia continua ad inseguire Marco Cuomo. L'ex Melfi è atteso in città, da limare i dettagli di una trattativa già avviata e sulla quale potrebbe arrivare la fumata bianca, già nelle prossime ore. Nel frattempo a Vibo sbarcano Simone Lavilla, classe 97, terzino destro, nell'ultima stagione all'Interreggio, e Fabrizio Scapellato, alla destra, classe 96, proveniente dalla primavera del Catalia, Gendì, con la maglia del noto. E siamo alla palla a volo, per il quarto anno consecutivo, la tono Calipo Calabria blinda il capitano Marcello Forni. Aspettando il colpo ad effetto dell'ultimo minuto, la Calipo blocca per il quarto anno consecutivo il centrale Marcello Forni. Il capitano Gelo Rosso resterà a Vibo per un'altra stagione. Dunque, dopo quella di Filippo Vedovotto, arriva la seconda conferma all'interno del quartier generale Gelo Rosso. Forni a Vibo Valencia ritroverà Coach Mastrangelo per la terza volta in carriera. La prima nella stagione 2003-2004, quando Forni giocava a Gioia del Colle, allenata dal duo di Pinto Mastrangelo. La seconda nella stagione 2012-2013, la prima di Forni a Vibo con Mastrangelo, che all'epoca era il vice di Chico Blingini. Un giocatore d'esperienza decisivo nelle ultime due annate per la crescita del gioiellino di casa Luca Presta. Dando per scontata anche la conferma del giovanissimo centrale Gelo Rosso, la società Vibonese è chiamata adesso a coprire altri cinque tasselli. Il terzo centrale, il secondo palleggiatore, il quarto schiacciatore, il secondo opposto e il vice Marra nel ruolo di libero. Qualora la Callipo non dovesse riuscirci entro oggi, termine ultimo per le contrattazioni in Serie A, sarà costretta ad andare a pescare i tasselli mancanti tra gli svincolati. Passiamo al basket, la Viola Reggio Calabria è il suo main sponsor. Si tratta dell'azienda Dolomiti Fruits, sulle maglie nero-arancio apparirà il marchio Bermet, la bevanda che abbina il bergamotto di Reggio alle mele del Trentino. In gaggi da urlo ed ora anche il main sponsor. La Viola Reggio Calabria non lascia nulla al caso e dopo aver portato in riva allo stretto gente come Freeman, Spinelli, Rullo e Mordente chiude un accordo importante in termini economici. Sulle maglie tornerà finalmente uno sponsor, figlio della partnership tra il club nero-arancio e Franz Schweig-Klofer, socio e amministratore di Dolomiti Fruits. Sulle divise da gioco apparirà il marchio Bermet, bevanda che abbina il bergamotto di Reggio Calabria alle mele del Trentino. Un'operazione storica portata avanti dal patron della Viola, Giuse Branca, che va a chiudere il cerchio sulla strutturazione delle ambizioni della società regina, pronta a recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione. Strategie societarie premiate dai tifosi. Sono infatti già parecchi gli abbonamenti prenotati per la prossima stagione nella prima fase riservata alla sottoscrizione annuale a prezzo ridotto. La seconda fase, a prezzo standard, ripartirà dopo ferragosto. Bene così, con questo è davvero tutto. Grazie per averci preferito. A voi tutti un buon proseguimento. Da Alessio Buonpasso.